Vuoi sfruttare tutta la potenza del marketing e ottenere balanghe di clienti? Non esiste un'azienda di successo che utilizza solo un canale di marketing. Se vuoi fare soldi, è fondamentale impostare la strategia sia online che offline. Ecco cosa spiega l'esperto di marketing numero uno in Europa, Frank Marenda. In questa lezione è stratta dal suo esclusivo circolo degli imprenditori. È meglio partire dall'online o dall'offline? Dipende. Dipende ma c'è una regola. Quindi dipende ma c'è una regola. In che senso c'è una regola? Qual è questa regola? Allora questa regola è abbastanza semplice, nel senso che se tu... In Italia non si possono acquistare liste, in particolare le liste dei privati. Si possono acquistare liste per esempio di aziende, se hai a che fare con aziende però dall'essere all'insulino, non micro-micro aziende, aziende che cubano un fatturato importante, allora magari ti acquisti una lista come Guida Mona, ci investi un pochino eccetera eccetera e lì hai tutto, hai i nomi dei referenti, hai il nome del titolare, cioè dell'imprenditore o del consiglio di amministrazione, dei vari direttori eccetera eccetera. Quindi le aziende un po' strutturate sono all'interno di liste e possono essere comprate, ma normalmente le liste dei privati non possono essere acquistate. Quindi se tu non hai idea realmente di chi sia, non di chi sia, ma di dove si trovi il tuo pubblico target, devi andarlo a cercare all'estero, negli Stati Uniti, ok? Io comprerei, compro le liste e faccio marketing in maniera diretta, in Italia questa cosa non si può fare. Quello che puoi fare quindi è rivolgerti per forza di cose a internet, quindi lavorare attraverso Google in particolare per ripersemplificare, per andare a cogliere quella che è la domanda consapevole, la domanda diretta di persone che stanno ricercando attivamente, Google e YouTube per essere più corretto, ok? E Facebook in particolare per andare a cogliere tutta quella domanda inconsapevole, latente, indiretta, ok? Di persone che non stanno attivamente cercando, ma che se sottoposte ai nostri messaggi potrebbero reagire. Lo scopo ovviamente di lavorare online non è rimanere online, quindi se devo partire online il mio scopo, il più velocemente possibile, è spostare le persone verso l'offline, quindi dall'online all'offline, fare in modo che queste persone vogliano ricevere da me del materiale fisico e quindi fare in modo di ottenere il loro indirizzo completo, perché? Perché dopo le devo raggiungere con i materiali fisici, perché devo farlo? Perché sono molto più efficaci che rimanere semplicemente online, dopo vediamo come ti mostro qualche studio e ti faccio vedere un po' di aziende che fanno questa cosa, però ci arriviamo fra un attimo. L'altro passaggio importante invece qual è? L'altro passaggio veramente importante è se invece io so dove sono i miei clienti, ok? Quindi diciamo che lavoro in maniera... Lavoro con le aziende, lavoro con un settore specifico. Vendo ai bar, vendo ai ristoranti, vendo ai parrucchieri, vendo ai barbieri, vendo ai negozianti di giocattoli, ok? In questo caso specifico io so dove sono, cioè ci metto un attimo a andare a vedere dove sono. Ora, una volta le aziende vecchio stampo cosa avrebbero fatto? Avrebbero mandato i venditori porta a porta in queste aziende a parlarci. No, ok? Prima di mandare un venditore al massacro, quello che facciamo invece noi è partire con il marketing offline. Quindi se io ho un... Quando è che posso partire? Sono tre casi in cui posso partire con il marketing offline. Allora, attività specifiche che ovviamente so dove sono, non si possono spostare. Le pizzerie, se devo fare mai, non si spostano. Gli hotel non si spostano, sono lì. La prima cosa che faccio è aggredirli con il materiale cartaccio, con il materiale fisico. Oppure il secondo target sono i liberi professionisti, nel senso che avvocati stanno là, commercialisti stanno là, dentisti stanno là, notai stanno là, ingegneri stanno là, architetti, insomma sono lì queste persone. E quindi anche in questo caso io non ho bisogno di andarli a cercare online, sono lì, sarà ben più sensato che io vada direttamente a targettizzarli. E a vedere se questa domanda latente può essere colta direttamente attraverso il materiale cartaceo. Quindi io non andrei mai su Facebook, certamente userei quindi l'online, ma l'userei in seconda battuta. Quindi, torno un attimo indietro perché c'era un'altra categoria. La terza categoria è quando io lavoro in maniera molto geolocalizzata, anche se lavoro con i privati. Faccio un esempio. Un'agenzia immobiliare normalmente, soprattutto quelle che lavorano in franchising, non si tengono delle aree enormi perché sanno che non ci possono lavorare ed è inutile allargare il loro raggio di azione. Un'agenzia immobiliare è stupido, io non mi do confini perché tanto così mi può capitare più business. Di base il business non è che ti deve capitare, il business lo devi provocare lavorando in maniera sistematica, si dice facendo farming, quindi seminando una zona specifica di persone. Questa zona specifica di persone, diciamo in Italia nella media, si dice in gergo tecnico ti tieni qualcosa come 5.000 contatti, quindi 5.000 campanelli, quindi 5.000 civici singoli. E in quel caso specifico tu fai farming, quindi fai un'attività di consegna di materiale cartaceo costante tutti i mesi, eccetera, eccetera, perché aggredisci direttamente. Perché il tuo pubblico è quello, è una micronicchia ma sono tutte quelle persone in quella zona perché tutti hanno una casa, tendenzialmente tutti nel tempo a rotazione acquisiscono, vendono, affittano o vanno in affitto, eccetera, eccetera, e quindi tu tieni seminata quel tipo di zona. Quindi queste tre sono le opportunità nelle quali conviene di più partire attraverso l'offline. Abbiamo detto attività specifiche che conosci e sai dove sono, liberi professionisti e privati, quando però la tua zona di influenza è molto piccola, quindi normalmente o perché sei bravo ci arrivi di tuo, o perché fai parte di un franchising, quindi in automatico ti ha affidato una zona sulla quale fare farming. Nel caso specifico, l'online come si usa in questo caso specifico? Si usa in difesa più che in attacco, cioè io metto la mia t3bbi a lavorare dal punto di vista della consegna di materiali fisici tendenzialmente. Faccio in modo di avere l'online attivo, perché? Perché comunque nella mia zona, per quanto piccola, diciamo almeno con Google posso raccogliere quella domanda, tra virgolette, se esiste, consapevole su quel target di clientela. Quindi lo tengo acceso, perché no, faccio una campagna di un certo tipo, ma dopo un po' in particolare mi serve fare un buon lavoro sia di posizionamento che di campagna a pagamento, tra virgolette, su Google, perché devo cominciare a giocare in difesa. Cioè, quando io comincio con i materiali cartacei, quindi con l'offline, a diffondere il mio brand, la mia azienda, le mie offerte, le persone che cosa fanno dopo un po' che gli gira sta carta in mano, appena gli arriva sta carta in mano? Tendenzialmente la prima cosa che fanno non è come negli anni settanta che attivano sul telefono, vanno a cercarmi online. E quindi è molto importante che la mia presenza offline sia difesa attraverso l'online. Quindi l'online in questo caso non si usa come attacco, ma come difesa. Cioè, dopo un po' che il mio nome gira, tra virgolette, le persone che cominciano a cercarmi devono trovarmi molto facilmente. Una cosa che, per esempio, la maggior parte, io tutte le volte che guardo non c'è una web agency che faccia questa cosa. Cioè, giocare in difesa sul nome del brand, sul nome della tua azienda. La spiego in maniera hypersemplice. Se tu fai marketing, ma anche se non fai marketing, il nome della tua azienda è leggermente conosciuto. Su Google, quando uno ti viene a cercare, la prima cosa che fa un concorrente un po' intelligente è per centesimi, veramente per iper spiccioli, si compra gli spazi in vendita sopra il tuo nome. Quindi se tu non stai difendendo il tuo nome mettendoci tu qualche soldino per comprarti anche gli spazi a pagamento, supponendo anche che tu sia ovviamente in prima pagina per il nome della tua azienda, perché sulla categoria no, ma sul nome della tua azienda se uno cerca cantaccessi e figli, trova cantaccessi e figli. Quindi sei per primo, ovviamente. Non è che sei indicizzato, è che ovviamente sei indicizzato per primo nel tuo nome, a meno che il tuo sito non sia uno schifo e nasconde pure l'indicizzazione dell'url di base. Il dato importante è che qualcuno sopra di te per centesimi cosa fa? Si compra quello spazio in vendita che c'è e dice stavi cercando la cantaccessi e figli, ma i viti e bulloni te li vendiamo meglio noi. e per qualche centesimo in realtà ti porta via i clienti. Quindi la prima cosa che devi fare è verificare tendenzialmente con chi ti sta seguendo l'online e lo puoi verificare da solo se ti sta facendo un'azione difensiva sul nome, sul brand, sul posizionamento perché sennò la gente per centesimi ti sfila i soldi. Questa è una strategia di base che utilizza Booking. Booking su qualunque albergo anche che si promuove online o indicizzato online per i fatti suoi eccetera eccetera, sempre per centesimi gli va sopra e gli sfila tutti i clienti perché in realtà per pochi centesimi poi se prenotano attraverso di lui si prende una commissione enorme ovviamente su quello che c'è sotto e quindi si guadagnano la stessa cosa, fanno i clienti accorti con il tuo brand name. Ma accade anche a me, nel senso se io non ho, c'è sempre qualcuno che cerca di ciuffare qualcosina sopra Frank Merenda, Venditore Vincente, Marketing Merenda, Menda Morti eccetera eccetera e io devo ovviamente semplicemente con un meccanismo d'asta cercare di difendere in tutte le mie aziende funziona così quindi se questa cosa da te non funziona attivala immediatamente quindi se tu stai spendendo soldi per l'offline e della cosa che dovresti fare nei tre casi che ho detto sopra usi l'online per difenderti come se fosse un'assicurazione lo usi a scopo assicurativo, lo usi per proteggere il tuo investimento come se tu stessi investendo in borsa tra virgolette comprando delle azioni in una direzione e dall'altra parte ti copri con delle opzioni perché se il trend ti viene contro almeno hai assicurato tra virgolette il tuo investimento come se devi comprare che ne so materie prime il costo della materia prima oscilla tu ti devi assicurare tra virgolette attraverso le opzioni o altri strumenti finanziari più raffinati sul costo della materia prima perché se oscilla troppo ovviamente tu non puoi saltare per aria dalla sera alla mattina perché ti sei sbagliato ad acquistare la materia prima quindi ci rimetti a vendere il prodotto perché la materia prima ti costa molto di più stessa cosa il marketing il marketing è come se fosse una materia prima io investo molto nell'offline uso l'online per coprirmi dall'altra parte invece se non so assolutamente dove sono i miei clienti perché non sono così facilmente individuabili ho il limite che non sono negli Stati Uniti le liste non le posso comprare allora uso l'online in maniera più aggressiva per spostare però il più velocemente possibile le persone verso l'offline dopo che ho incrociato i flussi tra virgolette quindi sono riuscito ad avere un sistema di acquisizione che abbia una gamba solida nell'online una gamba solida nell'offline sono riuscito a contattare dopo lo vedremo con una serie multi step di azioni questi nostri clienti poi dopo un po' ci dovrà parlare qualcuno con questi clienti se vogliamo chiudere un contratto fargli una vendita, invitarli in negozio invitarli in agenzia, in azienda, in studio andarli a trovare eccetera eccetera insomma dipende da quello che facciamo farli venire nel locale farli venire nel ristorante però questo è il dato importante quindi da dove nasce questa passione controtendenza che poi non è controtendenza sì è controtendenza ma è buon senso per avere entrambi i flussi l'online e l'offline sempre attivo cioè non puoi avere un sistema di marketing che è basato solo su uno dei due uno solo online non funziona perché serve l'offline solo offline rischi che la gente poi dopo tu fai un sacco di attività cartacea ma poi la gente ti frega i clienti perché non sei in grado di accoglierli e difenderli quando poi queste persone ti vengono a cercare online quindi servono tutti e due non è uno è meglio dell'altro servono tutti e due però per farti qualche esempio ti ho trovato perché sennò sembra che io sono pazzo c'è uno studio canadese si chiama ABS for Action che è uno studio neuroscientifico canadese del 2015 poi te lo posto te lo aggiungo al manuale cartaceo te lo invio tutto adesso solo per farti capire questo studio dimostra tendenzialmente quattro punti importanti è uno studio che ha messo in parallelo ovviamente l'utilizzo di strumenti di marketing online e strumenti di marketing offline e ha detto vediamo tendenzialmente se ci sono differenze qual è il più efficace quindi usciamo dalla percezione mia dalla percezione di Dan Kennedy dalla percezione di Jay Abram che è qualcosa di empirico cioè le cose le sappiamo perché le facciamo e quindi abbiamo ovviamente il ritorno dei dati ma facciamo finta che non ti fidi di noi non devi fidare siamo dei guru esistono studi scientifici al riguardo esistono ok questo studio che ti posta adesso ABS for Action nel 2015 l'Università canadese è molto lungo poi te lo do così te lo leggi ma in realtà è importante riassumere almeno i quattro punti fondamentali che sono emersi da questo studio ok allora il primo punto è che il marketing cartaceo fisico a parità di copy è più facile è più facile da capire e più memorabile rispetto a qualunque tipo di attività che tu vedi a schermo che sia su uno smartphone che sia sullo schermo del tuo mac del tuo pc del tuo computer eccetera 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 quindi è più facile da capire più facile da utilizzare ed è più facile le persone comprendono meglio quando stanno leggendo qualcosa su un pezzo di carta rispetto a quando stanno leggendo qualcosa o vedendo qualcosa a schermo ok tendenzialmente quindi questo è il primo punto il secondo punto è Direct Mail is far more persuasive than digital media cioè il marketing fisico è molto più persuasivo rispetto al marketing digitale la motivazione la risposta è del 20% in media più alta e anche di più quando a una persona gli dai qualcosa di fisico in mano che può toccare che può leggere che può muovere che può respirare che può pesare spinge di più all'azione questo è per questo che è importante cioè non c'è nessun approccio fideistico al marketing fisico è semplicemente che funziona di più se vuoi lasciare dei soldi sul piatto lasci dei soldi sul piatto oppure se vuoi fare le cose fatte bene prendi la roba e la stampi il terzo punto è che il marketing fisico è processato visivamente più velocemente che qualunque cosa che ti compaia a schermo qualunque cosa che sia di digitale ok quindi da una motivazione maggiore e c'è scritto nello studio abbassa il sovraccarico cognitivo necessario per processare le informazioni sapendo che la maggior parte delle persone con le quali avrei a che fare sono analfabete o sono analfabete funzionali e quindi non sanno astrarre i concetti da cioè sanno leggere e scrivere ma non sanno astrarre i concetti da ciò che leggono oppure sono di terzo livello quindi sono analfabeti applicativi quindi capiscono l'astrazione capiscono i concetti astratti ma non li vedono nella realtà quindi sentono che esiste una differenza tra la teoria e la pratica e quindi sono persone comunque anche se hanno capito incapaci all'azione è il caso di sfruttare qualunque strumento noi possiamo utilizzare per farli affaticare il meno possibile per capire le cose ed è meno difficile per le persone capire qualcosa quando gli arriva un materiale stampato che tendenzialmente quando gli arriva un materiale digitale il quarto passaggio importante è che il marketing fisico il marketing cartaccio una sales letter cartaccio invece una sales letter su schermo è molto più efficace nel far agire le persone quindi to drive a behavior quindi provocare un'azione gestire provocare un comportamento rispetto al marketing digitale con delle differenze che sono enormi quindi se io ti dico ti mando una lettera cartacea e dico adesso fai questo ti mando una cartolina e dico adesso fai questo è molto più efficace le persone sono molto più portate a seguire il comportamento a obbedire tra virgolette cioè a eseguire quell'azione rispetto a che se leggono quelle cose dal punto di vista semplicemente digitale in più secondo la nostra scuola noi siamo abituati a creare quelli che sono i vari i vari modelli di paccone quindi il paccone di merda il wow box eccetera eccetera quindi di imbustare impacchettare le informazioni sotto forma di pacco regalo tendenzialmente quindi questo aumenta ancora di più per chi usa il paccone come strumento fisico ovviamente la rendita la redditività tra virgolette di questo strumento perché è? delle persone ricevere qualcosa di grande grosso pesante scartarlo in particolare togliere il fiocco eccetera eccetera aumenta veramente veramente tanto il ritorno emotivo delle persone e fa completamente la differenza rispetto a qualunque altro tipo di messaggio che tu possa ricevere un'email o un'ad che tu vedi passare su facebook o su google eccetera non c'è non c'è proprio paragone ok quindi poi ti mando lo studio lo vedi ma ancora più importante ti volevo fare vedere chi è che usa veramente veramente tanto il marketing cartaceo e google per quanto sembri assurdo perché google vende ovviamente il suo marketing digitale come vende google il suo marketing digitale con le 6 lettere di carta quella che vedi qui adesso in questo momento è una lettera di vendita cartacea che viene spedita agli imprenditori è completamente a risposta diretta c'è un codice offerta c'è un bonus da ricevere proprio più a risposta diretta del marketing cartaceo di google non esiste niente e lo vedi qua quindi come mai google per vendere il suo marketing digitale dovrebbero se funziona così tanto dovrebbero rompersi le palle a stampare delle lettere di carta e a mandarle in maniera massiva con codici bonus eccetera eccetera agli imprenditori perché non se lo fa è gratis perché dovrebbe spendere tutti questi soldi nel budget e perché non se lo fa in maniera gratuita sul suo sito fai google e che cosa ci vuole pubblicizzati sulla tua piattaforma hai accesso a qualunque tipo di dato puoi infilarti dentro gmail puoi fare quello che vuoi perché devi stampare delle lettere di carta e mandare delle sedere proprie se islet la risposta diretta ai clienti perché funziona fine se non funzionasse google non ci hanno degli idioti dentro quindi il dato importante è che questo viene utilizzato in maniera specifica guarda la headline di questa vera e propria sales letter che ti arriva a casa right now people are looking for businesses just like yours cioè proprio adesso ci sono persone che stanno cercando un business un'azienda proprio come la tua e poi apri e dentro c'è la sales letter e ti invita a fare che cosa investire una lettera di carta che ti invita a investire nel marketing online ed è straordinario ma è come quando scherzo con lui uno dei miei studenti più bravi in assoluto si chiama Nicola Savino magari lo conosci il dematerializzatore si occupa di dematerializzazione dei processi aziendali per non avere più carta che circola e come vende lui questi servizi di dematerializzazione con un paccone di carta plastica eccetera eccetera cartone grosso così più un libro che è di 800 pagine infatti quando va dai clienti dice ma come io devo dematerializzare tu mi dai sto 8 kg di pasta sì perché perché funziona così ok quindi sembra una barzelletta ma è così quindi il dematerializzatore invita a dematerializzare spedendo carta Google ti invita a investire nel marketing online attraverso la carta quindi è qualcosa di molto importante al di là di Google c'è un'altra azienda che tu molto probabilmente conosci che ha sviluppato soprattutto nell'ultimo periodo siamo tutti diventati fan di Medidan Kennedy in particolare però è così ok quest'altra azienda è Amazon in particolare allora Amazon che cosa fa ecco il titolo Amazon manda campioni omaggio e stupisce ancora il programma Amazon Product Sampling cioè che cosa fa Amazon dopo averti targetizzato quindi dopo aver raccolto online tutte le tue abitudini di acquisto e raccolto ovviamente anche i tuoi dati di spedizione eccetera eccetera fa una cosa molto semplice decide che invece che farti semplicemente la pubblicità digitale hai visto questo ti potrebbe interessare anche questo questo è quello che fanno normalmente ed è quel sistema che tu o la tua web agency cerca di replicare quando magari applica il remarketing alle campagne ok il remarketing nelle campagne cerca un pochino di simulare il meccanismo interno di upselling e cross selling che Amazon ha Amazon quando tu hai visto per esempio una che ne so guardi una padella facciamo sempre questo esempio su Amazon Amazon ti si appiccica sopra e continua a riproporti quella padella in giro il più possibile nel suo sito fuori eccetera eccetera un'attività simile si può fare se hai una brava web agency che è brava a gestirti i pixel interni ovviamente alla tua piattaforma e siti e a lavorare in termini di remarketing ma al di là di quello Amazon si è spinta a fare quello che io insegno da sempre solo che questo è del 16 gennaio 2019 io queste cose le insegno da quando sono comparso sulla scena per insegnare queste cose al pubblico Dan Kennedy le insegna dal 1978 la prima edizione di Magnetic Marketing so quindi il dato importante quindi cosa fanno tracciano online il tuo comportamento prendono i tuoi dati e pensando a che cosa ti potrebbe piacere non te lo fanno più vedere ti mandano i campioni ti mandano i campioncini ti mandano i samples quindi ti mandano il prove di utilizzo prove gratuite dei prodotti quanti anni è che io insegno questa cosa tutti a darmi del pazzo perché no l'online l'online solo l'online solo l'online no perché Dan Kennedy è vecchio Frank è vecchio eccetera eccetera e poi Google manda le 6 letter come insegniamo io come insegna Dan Kennedy come insegna Jay Abram come insegna tutti i miei maestri Amazon manda sti cazzo di campioni omaggio quando io sono anni che insegno a mandare lo shock and no box il pacchione di merda eccetera 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 allora magari non è che siamo pazzi noi ma è perché le cose funzionano così e dopo un po' di delirio ok di questa iper eccitazione immotivata che ha spostato gli acquisti completamente verso l'online magari è il momento di tornare a capire che il marketing si fa in maniera seria e quindi serve un approccio online ma quello che funziona veramente è l'approccio offline Amazon fa un'altra cosa su Amazon Prime hai un'altra opzione che non ti inviano loro i campioni ma addirittura puoi comprare se sei un cliente Prime quindi innanzitutto ti vende un abbonamento stare dentro al Prime che già sono straordinari ma al di là di quello puoi comprare dei campioni per 2 o 4 dollari cioè c'è un prodotto che ti interessa ma magari non vuoi comprare un pacco intero o una confezione intera o una scatola intera eccetera eccetera Amazon permette di comprare solo un campioncino per spiccioli tendenzialmente quindi è fare la prova gratuita che sono tutte quelle cose che io insegno da quanti anni mandami solo le spese di spedizione e ti mando il campione gratuito mandami solo le spese di spedizione e ti mando il libro dammi solo 2 euro e ti mando quanti anni è che io insegno questa roba Amazon fa queste cose non solo ti manda in maniera diretta ok per stimolare la domanda latente il tuo campioncini che tu non hai richiesto ma anche quando ci sono dei prodotti cerca di abbassare la soglia di ingresso a testarli facendoti pagare solo una piccola campionatura solo un piccolo campioncino quanti anni è che io insegno questa roba adesso Amazon Bezos è svegliato fuori adesso adesso anche io voglio dire che sono più intelligente di Bezos per l'amor del cielo questa è la persona più ricca del pianeta è solo per farti capire che le cose dopo un po' queste sono aziende che testano 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 in maniera corretta sono aziende intelligenti sono aziende nuove non sono vecchie cariatide cariatide bloccate nel mondo vecchio di fare business quindi si trascinano penosamente facendo sempre le stesse cose Google è un'azienda che testa davvero fanno cazzate anche loro Amazon fa cazzate anche loro però bisogna riconoscergli che sono aziende in gamba con gente che testa e quindi sono arrivati anche loro a capire l'importanza in realtà di mix non è che fanno solo una cosa non hanno una religione loro interessa il profitto come interessa il profitto a me esiste questo mix prova ad andare a vedere Google non sono così bravi ma Amazon prova ad andare a vedere quanto sono bravi per esempio nell'assistenza clienti quanto sono veloci quanto sono solerti quanto sono attenti ok il loro payoff se guardi le ultime mail che arrivano adesso è vado a memoria più una frase quella l'azienda con l'assistenza clienti numero uno nel mondo questo è il posizionamento che cerca di avere Amazon ultimamente quando hai a che fare con l'assistenza ti mandano il messaggio il payoff finale è l'assistenza clienti Amazon l'azienda più attenta ai clienti del mondo ecco questa è la l'immagine che stanno cercando di dare quindi capito questo ok cerchiamo di capire che siamo andati a pescare un lead ok siamo andati a pescare un lead e adesso andiamo insieme a vedere come creare questo sistema multi-step di acquisizione clienti quindi il dato molto importante abbiamo detto è a prescindere che arrivi che non che arrivi che io parto dall'online che parto dall'offline di base comunque devo fare in modo di riuscire ad arrivare all'offline neanche se sono partito dall'online devo fare in modo di offrire in due step un campione gratuito una prova gratuita un campioncino un materiale un libro qualcosa un'offerta un bonus conto qualcosa che le persone vogliano per loro in modo da farmi dare i dati fisici di spedizione non mi basta l'indirizzo email non mi basta il telefono che è già qualcosa perché se hai il telefono soprattutto il numero cellulare questo ti permette di essere più efficace nel fare di marketing quando sei online quindi lavorare in maniera sia aggressiva che in maniera difensiva ma il dato più importante vero per fare marketing è l'indirizzo cartaccio fisico no l'indirizzo non è cartaccio è l'indirizzo fisico per poter inviare marketing cartaccio questa è la cosa più importante ok quindi quando io sono giunto tendenzialmente quindi tu lo puoi fare anche online facciamo finta che cominci a seguire me ti fidi fai bene i conti e cominci ad avere l'indirizzo fisico tra virgolette anche per fare marketing offline allora il dato importante qual è è che io devo allora oggi c'è questa malformazione del marketing che io voglio combattere cioè visto che le email sono gratis tra virgolette poi non è vero che sono gratis perché comunque ci metti tempo a scriverle spedire email a una lista comunque costa a seconda di quanto è grande questa lista nell'autoresponder quindi se hai infusionsoft ha un costo se hai acting appena un costo se hai mailchimp ne hai un altro che tra virgolette però non è che sia proprio gratis inviarli email però diciamo costa meno sicuramente che spedire manualmente roba ai tuoi clienti però non è quanto costa è quanto mi rende quindi questo è sempre il solito concetto però quindi è nato questo vizio visto che l'online sembra gratis o semi gratis cosa facciamo acquistiamo per centesimi i clienti cercando di spendere il meno possibile attraverso un online che poi ovviamente se meno costano meno sono di qualità tendenzialmente ti svelo questo grande risultato a me non interessa quanto costa un lead mi interessa ho detto prima quanto mi costa fare la prima vendita lo rivirò all'infinito ma al di là di questo la tendenza è della web agency dimostrarti quanto poco ti fa spendere per acquisire un lead e poi questi lead ti vengono messi dentro un autoresponder e c'è questa campagna di mitraglia marketing infinita di mail sperando che prima o poi a forza di comunicare e poi ci sono quelli della deriva del content marketing queste parole assolutamente prive di significato comunicare valore quindi c'è gente che mette delle persone dentro una scarica di mitragliatrice di marketing prima manda 50 email e poi fa un'offerta non vende niente mai perché non sta bene perché il marketing è una cosa brutta quindi o spera che i clienti si suicidino che i clienti ti chiamino loro eccetera eccetera o che dopo una persona che è entrata in contatto con te con i tuoi primi materiali ti segua per 20 30 40 email e poi si ricordi di aprirle tutte di aprire proprio quella dove fai l'offerta ok è una follia ok ricordandosi di comprare di te no questa cosa non va bene bisogna accorciare quindi non è che non vada bene fare follow up non è che non vada bene utilizzare le email per fare un follow up anche infinito eccetera eccetera io sono il primo a farlo il problema è che la prima cosa che devi cercare di fare è vendere al cliente nel minor tempo possibile perché la tua cassa corre e devi chiudere il ciclo di cassa il più velocemente possibile cioè da quando spendi soldi per acquisire quel contatto a quanto ci mette a diventare un cliente pagante che copre i soldi spesi e ovviamente li supera dandoci un profitto margine per poi pagare le bollette gli affitti i dipendenti i macchinari eccetera 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 ok quindi la prima cosa che faccio è facciamo il ciclo più lungo parto dall'online acquisisco i primi dati di contatto del cliente normalmente un'email eccetera eccetera comunico con queste persone per farmi dare quindi faccio un'offerta immediata gratuita semi gratuita campioncini libri prove gratuite eccetera eccetera per farmi dare i dati di contatto al fine di spedirgli qualcosa di fisico ok quindi devi creare quindi il compito per questo mese è che crearti il tuo prodotto semi gratuito il tuo campione la tua offerta il tuo buono eccetera 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 di front end da offrire a tutte le persone con le quali entri in contatto attraverso l'online devi stringere cioè arriva qualcuno attraverso l'online ti lascia un'email non deve ti lascia un numero di telefono che è quello che è non voglio che rimanga solo un contatto virtuale voglio che prendi e trasformi quel tipo di contatto in un contatto fisico allora qui hai due modi per farlo e te li spiego tutti e due non ti devi sbagliare ora uno hai tu chiedi tra virgolette email eventualmente numero di telefono alle persone se chiedi email e numero di telefono alle persone e dall'altra parte dei venditori quello che puoi fare è l'offerta di campionatura libro gratuito prodottino gratuito scatolina gratuita quello che ti vuoi ok la fai fisicamente cioè hai i venditori che chiamano queste persone per fare una telefonata a zero persone commerciale di assistenza salve ho visto che ha richiesto informazioni eccetera eccetera l'abbiamo inviato il pdf l'abbiamo inviato questa serie di video l'abbiamo inviato qualunque cosa tu gli abbia inviato i termini digitali volevamo sapere se voleva approfondire la nostra conoscenza ricevendo completamente in maniera gratuita questa cosa se mi dà non c'è bisogno che mi dia pagamenti né niente né carte di credito né nulla è un regalo al 100% ok se mi dà il suo indirizzo fisico glielo invio domani mattina lo fai fare a un operatore umano però ti serve il numero di telefono quindi devi aver chiesto l'email devi aver anche avuto il numero di telefono se invece non riesci ad avere il numero di telefono delle persone per la tua campagna di marketing magari chiede solo l'email e non hai un numero sufficiente di venditore non hai il venditore dipende dai volumi che muovi ok per richiamare le persone non fai nient'altro che farlo attraverso l'online quindi la tua offerta la farai facendo remarketing in maniera corretta davanti a queste persone perché gli ricompari davanti e gli arrivi attraverso email gli arrivi attraverso email remarketing sms eventualmente per fare no sms se non hai il numero di telefono non puoi farlo ok però diciamo che hai il numero di telefono ma non hai il venditore quindi remarketing email marketing sms ok se invece hai solo l'email non puoi mandare l'sms lo devi fare attraverso l'email marketing eccetera eccetera laddove ti sia possibile fallo sempre con una persona fisica a meno che non devi gestire noi in certi casi gestiamo migliaia di persone non sarebbe economicamente fattibile ok dovremmo avere centinaia di persone che si mettono lì per richiamare tutti quelli che scrivono la lista non è economicamente saggio se no lo farei nel mio caso specifico ma noi abbiamo un lavoro intensivo di venditori che mi servono per fare altre cose ma se tu hai uno due lì dal giorno tre lì dal giorno quattro lì dal giorno quelli che sono sono chiamate che uno in due minuti e mezzo può fare quindi metti in una persona ti dice lì dal giorno c'è uno che li chiama e li converte in offerta tra virgolette gratuita per prequalificarli farle qualche domanda e vedere se alza la mano e decide di voler ricevere il nostro materiale se alza la mano e decide di voler ricevere il nostro materiale è un belliddino qualificato per esempio ok quindi questo è molto passaggio molto importante quindi devo avere sempre il devo fare in modo con esattamente questa procedura che ti ho insegnato adesso con tutte le sue varianti di arrivare a poter parlare con la persona quindi se parto direttamente all'offline l'indirizzo ce l'ho ce l'ho ok quindi comincio a mandare direttamente 6 letter per esempio ok lettere di vendita newsletter cartoline ok se invece non ce l'ho devo partire dall'online allora dall'online il gioco è leggermente diverso raccolgo i primi dati raccolgo l'email se riesco a raccogliere il telefono faccio chiamare da qualcuno per avere l'indirizzo fisico se ho solo l'email faccio in modo di usare il remarketing l'email marketing per fare questa offerta e vedere quanti alzano la mano per farsi inviare le brochure i cataloghi il paccone il librino quello che voglio insomma la campionatura in omaggio questo è quello che devi decidere ti metti lì quando hai finito oggi di guardare questo messaggio cominci a costruire ok il tuo sistema di acquisizione clienti se parti invece dall'offline parti inviando ovviamente poi prendi le persone gli puoi inviare anche semplicemente se vuoi spendere poco puoi inviare cartoline su una risposta diretta vanno bene puoi inviare volantini non c'è bisogno di partire immediatamente con sconosciuti per esempio con una 6 letter di 80 pagine magari che non leggeranno mai fai un bel annuncio a risposta diretta molto forte può essere un volantino a risposta diretta può essere una cartolina a risposta diretta spendi molto poco però a risposta diretta vedi quale tra queste persone alza la mano se queste persone alzano la mano dalla cartolina tra virgolette li rimandi online quindi fai il contrario dall'offline li rimandi online online queste persone li rimandi a vedere un video o una mini video serie o un video tra virgolette che è un infomercial alla fine del quale dopo aver fatto la tua presentazione un po' di info first quindi aver dato tutte le informazioni aver letto tra virgolette attraverso il video la tua 6 letter e la fai in questa maniera l'offerta finale sarà quella di potergli inviare il tuo gadget il tuo campionatura gratuita il tuo campioncino la tua 6 letter il tuo libro il tuo quello che ti pare in modo da vedere quante persone si scaldano alzano la mano e dicono sono molto interessato a quello che stai dicendo quindi da una parte o dall'altra spendendo anche poco c'è sempre modo in realtà facendo bene i conti c'è sempre modo di avere persone che alzano la mano e ti chiedono di inviargli cose quindi il tuo obiettivo è avere sempre nome e cognome ovviamente email numero di cellulare e indirizzo fisico queste sono le cose che devi avere ai tuoi clienti una banca dati qualificata ha questi dati quando tu hai questi dati hai una banca dati e una persona che con questi dati ha alzato ovviamente la mano per dirti mi interessa che tu mi invii delle cose ok hai un potenziale cliente molto molto interessante da lavorare ok quindi che cosa fai tendenzialmente adesso adesso fai una cosa molto semplice cioè dopo che gli hai inviato il tuo primo insieme tra virgolette il tuo primo pacchetto informativo che sia che sia un libro una 6 letter camuffata da libro che sia il paccone intero che sia la newsletter che sia quello che vuoi diciamo il primo approccio è gli mando cioè ci deve essere da come lo fai lo fai ci deve essere una lettera di vendita che sia camuffata da magalo quindi da rivista che sia camuffata da libro che sia una 6 letter scritta proprio sotto forma di 6 letter va bene basta che l'importante è che la persona sia già arrivata filtrata come abbiamo detto prima non mandare 6 letter a freddo perché non funzionano manda cartaceamente alle persone puoi mandare un magalo puoi mandare una cartolina puoi mandare un volantino ma falle filtrare da perché a tutti se tu potessi mandare un paccone ma magari un paccone ti costa 20, 30, 40, 50 euro che possiamo mandare pacconi a tutti ok quindi magari a meno che il target non sia iper specifico non ci vai apposta quindi se il target non è così iper segmentato mandi semplicemente qualcosa che costa molto poco una cartolina fatta bene un volantino fatto bene eccetera eccetera continui a mandare e vedi quale di queste persone si va online a sciroppare per esempio il tuo video ok le persone che vedono il tuo video e richiedono l'invio successivo di un materiale cartaceo allora su questo cliente tu puoi mandare una lettera di vendita se la mandi come primo strumento a freddo la lettera di vendita non funziona funziona molto male funziona molto bene su chi ti ha chiesto in realtà volontariamente informazioni questo è un passaggio molto importante e quindi arriva tra virgolette il nostro materiale dove c'è una lettera con la formula che vuoi ok gli puoi inviare anche una video 6 letter quindi gli puoi inviare un DVD gli puoi inviare una chiavetta quindi se glielo vuoi mandare sotto forma di infomercial devi scegliere tu qual è la formula più adeguata a vendere quello che decidi di vendere o quello che sai fare esci bene in video sei bravo io farei una video 6 letter non sei bravo scrivi non è importante ok scrivi il libro l'importante è che sia una lettera di vendita per vendere immediatamente camuffata da quello che vuoi che sia camuffata da documentario da filmato educativo ok che sia da video tutorial che sia camuffata da libro che sia camuffata da rivista scientifica che sia camuffata da quello che ti vuoi basta che sia una lettera di vendita sotto copertura ok perché questa persona ha chiesto informazioni non devi continuare devi vendergli cioè il nostro obiettivo è vendergli quindi intanto glielo chiedo ok come quando vai a gnocca c'è la gnocca intanto gliela chiedi se non gli piace te lo dice lei però tu intanto gliela hai chiesta questa è la strategia perché se non la chiedi mai è difficile che te la diano ti svelo questo grande segreto di come si fa a dare tu intanto la chiedi gli appoggi se non gli piace ti dirà qualcosa coi clienti è uguale intanto gliela offri se non gli piace te lo dice lei ok quindi hai primo passaggio o non risponde quindi non compra non risponde alla tua offerta oppure compra vediamo che cosa faccio se non risponde allora mando la prima lettera di vendita nella formula che ho deciso io non mi risponde non è che basta vado a fare ne mando un'altra si chiama campagna multistep ok anche qui le opportunità sono compra alla seconda lettera o non risponde nemmeno qui ok dopo vediamo cosa succede se compra anzi vediamolo subito vediamo la parte semplice quella se compra ok lettera la persona compra se la persona compra come vedi nella parte sinistra del nostro grafico quello che gli mandi è una lettera tra virgolette ovviamente di benvenuto sia online che offline e immediatamente la possibilità di fare un upselling quindi di acquistare altro quindi la prima cosa che devi fare ovviamente se gli hai offerto un front end la prima cosa che cerchi di fare ma subito appena la persona ha aperto il portafoglio è offrirgli una quantità maggiore la versione più lussuosa un prodotto o un servizio complementare eccetera eccetera abbiamo lavorato su queste cose tante volte ok quindi cerchi di fare upselling o crossselling immediatamente perché devi accorciare come abbiamo detto all'inizio il tempo nel quale i soldi stanno fuori scoperti dobbiamo ricoprirci ok quindi sales letter la persona compra immediatamente la prima cosa che faccio è non solo gli ho venduto bene ma provo a rivendergli quindi la prima cosa che faccio è gli faccio una one time offer gli faccio un'offerta ok e in questo caso la puoi fare a seconda di come la persona ovviamente ha comprato da te ok se comprare vuol dire anche semplicemente dipende dai modelli di business che ha accettato di fare un appuntamento con un tuo venditore devi mandargli un venditore chiaramente non è che tutto si vende attraverso il direct marketing e basta ok o compra nel senso che decide di fare un appuntamento con te ok perché gli devi fare una consulenza nel tuo studio nel tuo ufficio ok eccetera eccetera oppure compra significa che viene nel tuo locale ok oppure compra significa che ordina qualcosa che semplicemente stai vendendo ma se vendi tendenzialmente la prima cosa è diciamo fare un appuntamento fai l'appuntamento oppure la persona decide di acquistare direttamente di testare ok il tuo prodotto di frontend la prima cosa che fai è fargli un'altra offerta che tu lo stia facendo per telefono che tu lo stia facendo dal vivo che tu lo stia facendo online non cambia ok dipende come il tuo modello di business ma in qualche modo lui sta comprando qualcosa che stia comprando attraverso un appuntamento fatto da lui da te fisicamente che lo stia facendo al telefono che lo stia facendo attraverso è uguale stiamo facendo tutti lo stesso lavoro appena uno compra la prima cosa da fargli è fargli un'offerta di upselling e crossselling se la persona upsella meglio ancora quindi abbiamo immediatamente siamo rientrati ok immediatamente a quel tipo di investimento e successivamente all'upselling lo metti nel tuo funnel cioè lo metti nel tuo funnel di follow up e decidi se hai dei venditori come seguirlo in funzione di quando lancerai nuovi prodotti quando lancerai nuovi servizi se è il caso di fargli una consulenza più esprima ma intanto sta nel tuo follow up di comunicazioni sia cartacee che gli mandi nel corso del tempo che le email ok il tuo funnel di follow up nasce da qua cioè nasce quando gli hai venduto tutto il possibile qui il gap con tutti gli altri che non capiscono questa cosa tendenzialmente cioè tutti partono acquisiscono un lead e lo vogliono mitragliare all'infinito di comunicazione sperando che questo si suicidi ma non funziona così cioè quello che devi fare è quando una persona ha manifestato l'interesse a ricevere delle cose lo metti sotto pressione gli dai tutte le informazioni che gli possono servire nella creazione di questo pacco di questo libro di questa sales letter su tutti i formati che ti possono sembrare interessanti e provi a venderli intanto glielo chiedi sarà una percentuale che compra o accetta un appuntamento il più velocemente possibile poi più ha dei venditori bravi della terza gamba che si occupano di gestire questi appuntamenti o l'assistenza clienti in modo intelligente chiaramente più velocemente incassiamo soldi guadagniamo eccetera 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 ma non è che cambia il gioco cioè il dato tendenzialmente è questo se invece non si upsella anche lì nel caso specifico lo teniamo nel follow up quindi intanto gli ho venduto qualcosa a questa persona ok questo è il dato quindi lettera 1 compra lettera di benvenuto più upselling se upsella bene e poi lo mettiamo nel follow up se non upsella lo mettiamo comunque nel follow up lo teniamo lì e fisseremo nel tè cercheremo di capire quando proveremo a vendergli altre cose quindi questa è l'inversione cioè prima provo a vendere e poi lo metto nel funnel educativo non lo tengo in un funnel educativo sperando che questo si suicidi da solo o che prima o poi perché gli sto simpatico compri da me non compri dagli altri fa nella professione intanto gli vendo poi decido di fare altre cose andiamo dall'altra parte lettera 1 non risponde lettera 2 si convince e compra se compra è uguale a prima lettera di benvenuto upsell upsell o non upsell la funnel ok di funnel di follow up fine quindi se appena compra l'ho risposto l'ho risposto di là ok se la lettera 2 non risponde mando una terza lettera una terza lettera quindi la seconda lettera praticamente è uguale alla prima o semplifica il primo invio ripetendone però i punti e l'offerta quindi diciamo che il primo invio che gli ho fatto magari era cioè se era una sales letter la seconda è praticamente uguale con una premessa ho visto che non hai ancora risposto ti volevo rimandare questa offerta perché secondo me è molto importante eccetera 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 se invece ovviamente gli hai mandato magari un paccone o qualcosa di più strutturato o un libro il libro non il paccone non è che tutte le volte gli posso rimandare tonnellate di roba quello che faccio è in questo caso specifico semplifico quindi riassumo tutto quello che c'era i punti importanti che c'erano nei miei materiali educativi del primo giro che ho mandato proprio per comprimere i tempi e campioncini eccetera eccetera e li ridico in una lettera di vendita ok sintetica dove però c'erano tutti i punti uguali a prima e faccio l'offerta ok la seconda volta quindi la prima volta tutti i materiali la seconda volta la lettera di richiamo tra virgolette la terza e non risponde alla seconda programmo e a seconda di quanto dura questa offerta ok quindi non è che può questa offerta durare all'infinito quindi se un mese è una lettera ogni 10 giorni una lettera ogni 15 giorni altrimenti la gente anche si scorda quindi la mia campagna deve essere temporizzata in maniera in maniera intelligente ok e quindi devo decidere i tempi di vivo in funzione di quanto tempo ci metto a spedire le lettere arrivare eccetera eccetera devo fare i compiti da questo punto di vista la lettera numero 3 è fa una cosa diversa cioè fa quella che noi chiamiamo un'offerta a tendina che cosa vuol dire un'offerta a tendina l'offerta a tendina è un pochino il concetto della prendiamo in prestito il concetto di che poi non è cioè è Amazon che fa questa cosa e io l'ho sempre spiegata ma te la rimetto come se fosse il concetto di Amazon allora l'offerta a tendina è il terzo livello cioè se uno non ha comprato la seconda volta quello che gli abbiamo offerto gli riproponiamo ovviamente tra virgolette quel tipo di offerta che gli abbiamo fatto ma probabilmente non gli è piaciuta al cento per cento quindi gli facciamo un'offerta a tendina quindi gli proponiamo a catalogo piuttosto che perderlo facciamo l'ultimo tentativo a catalogo apriamo un'ulteriore opportunità quindi è come se tu fossi su un sito clicchi nei prodotti e ti viene giù tutta la scalettina scegli due, tre, quattro, cinque x prodotti in sconto e servizi ok in sconto in offerta che tu gli proponi solo se li prende tra virgolette immediatamente quindi gli fai una one time off sulla scelta di un prodotto che può scegliere tra tutti quelli quindi a catalogo quindi un'offerta a catalogo invece che fagli l'offerta iniziale che gli hai fatto gli fai un'offerta a catalogo magari questa cosa che ti ho proposto non ti interessa però ci sono questo, 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 questo questi prodotti questi servizi che ti potrebbero interessare scegli ne uno e te lo mando con uno sconto assolutamente interessante quindi fai una una one time offer su un prodotto parallelo questo è molto importante quindi prima offerta paccone completo tutto quello che posso dare la seconda offerta richiama, riassume la prima offerta la terza offerta se gliela devo rimandare è a catalogo quindi dico guarda capisco che magari la prima offerta non ti abbia convinto per mille motivi eccetera eccetera però se vuoi in realtà io ho anche questi altri prodotti uno, due, tre, quattro che per te ok se mi rispondi immediatamente non lasci scadere l'offerta lo puoi prendere con uno uno sconto importante che tu deciderai ovviamente quindi gli dai la possibilità di non acquistare solo quello che gli hai detto ma di entrare da un'altra porta d'ingresso perché per mille motivi potrebbe quindi cerchiamo di recuperare tutto il possibile perché per mille motivi stavo dicendo potrebbe non essere completamente persuaso quello ma se gli vendi la possibilità di entrare con prodotti che costano meno campioncino prove eccetera come fa Amazon mandami due dollari e ti faccio provare questo prodotto fai una cosa del genere quindi scegli quali sono nell'azienda da te gli altri prodotti che gli puoi dare con un forte sconto o senza un particolare impegno una campionatura basta che faccia vedere questo cliente che tira fuori i soldi questo è il dato ok quindi questo è l'ultimo tentativo che facciamo per il momento quest'ultimo tentativo se non risponde lo metto nel follow up però intanto ci ho provato tre volte cambiando tra virgolette una volta anche il tipo di offerta che gli ho fatto non è che l'ho messo nel follow up all'inizio ho provato a vendervi tre volte in maniera aggressiva una volta più aggressiva di quell'altra ok facendo scadere il tempo cambiando l'offerta cambiandogli la campionatura sotto eccetera eccetera se non converte non converte ovviamente come capiterà che non converta un sacco di clienti lo metto nel follow up ma se compra quindi c'è la possibilità invece che compri quindi che prenda una delle offerte a tendina che gli ho fatto una delle offerte a catalogo che gli ho fatto allora lettera di benvenuto o chiamata di benvenuto a seconda se hai il solito se hai venditori non hai venditori se sei online se sei offline eccetera eccetera lettera di benvenuto e gli fai l'offerta iniziale più più che cosa vuol dire l'offerta iniziale più più vuol dire che tu gli dirai al telefono o gli scriverai ok via mail via mail cartaccio eccetera eccetera come vuoi è importante che lo contatti ok quindi pagina di benvenuto sei online eccetera eccetera e gli dici signor cliente guarda ho capito subito che l'offerta che ti avevo fatto non l'hai capita non ti sembrava interessante non era giusta per te eccetera eccetera però ho visto che sei voluto comunque diventare un nostro cliente allora facciamo così visto che mi hai comunque comprato questo prodotto e quindi sei già diventato nostro cliente mi hai già dimostrato di voglio farti un'offerta ancora più straordinaria di quella che ti ho fatto all'inizio non perché all'inizio ti avevi fregato ma perché tu mi hai già comprato comunque qualcosa ok quindi il prodotto iniziale voglio che il servizio iniziale voglio assolutamente che tu lo provi non voglio che tu vada via semplicemente con questo altro prodotto che hai comprato voglio che tu lo prenda e quindi te lo faccio con questa ulteriore condizione vantaggiosa per te proprio perché hai già comprato sei un cliente ancora più speciale quindi posso farti un'offerta ancora migliore rispetto a quella che ti ho fatto all'inizio quindi questa è la leva psicologica che tu usi quindi gli rifai l'offerta più 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 questo è il lavoro ok gli fai uno sconto maggiore gli fai una dilazione di pagamento gli aggiungi sopra dei servizi gli dai una quantità maggiore dipende che cosa vendi ok devi cercare di rendere quell'offerta che gli fai assolutamente più appetibile se la prende ok benissimo quindi la compra lettera di benvenuto e lo riporti di là ok lettera di benvenuto upsell e provi a riapsellare anche questo quindi questo gli hai venduto il prodottino base 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 provi a rivendergli il prodotto iniziale se te lo ricompra provi anche lui ad upsellarlo esattamente poi upsella non upsella lo rimetti nel follow up se invece si ferma alla scelta del campioncino quindi non ti compra ma non upsella lo metti direttamente nel follow up e va bene così ok non ci offendiamo nel caso specifico intanto è diventato un cliente comunque ha comprato comunque ha pagato eccetera 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 questa ragnatela che ti ho creato è come devi creare un sistema di base multi step di acquisizione clienti secondo secondo metodo merenda cioè noi lavoriamo così tu devi lavorare così questo è il modo per acquisire clienti nella maniera più efficace possibile esattamente con tutti i mix che ti ho spiegato ok e in particolare è il modo per dare tu stesso una ragnatela che riempirai perché io ci ho scritto lettera 1 ma tu deciderai che cos'è ok pacone libro video cioè sceglierai tu quali sono i materiali ma se tu hai questa ragnatela tra virgolette quindi questo sistema complesso di acquisizione clienti capisci bene che innanzitutto lo tieni in azienda per te perché la gente che è dentro deve sapere in quale momento dove gli stanno arrivando i clienti eccetera eccetera quindi dove stanno arrivando la lettera 1 la lettera 2 che cosa gli devo offrire la lettera 3 questo che cosa ok quindi se ho delle persone all'interno devo avere quelli che rispondono al telefono quelli che fanno le telefonate quelli che inviano i materiali eccetera eccetera quindi la gente deve il tuo gestionale deve gestire questa rete che ti ho creato e questo è come si fa l'imprenditore quando tu vai magari da un'agenzia o da una web anche se vai da una web aggine devi spiegare io devo fare sta roba qua siete in grado a darmi una mano o devo andare da qualcun altro se ti raccontano la supercazzola capisci che no ma noi faremo non vi ho chiesto di fare ok cioè non vi ho chiesto di pensare ho già pensato io voi mi dovete realizzare questa roba qua siete in grado a darmi una mano ok nello smistare con l'online fare tutte queste cose oppure no ok e devi decidere quale parte del tuo funnel di marketing può essere affidato a una web agency quale invece deve essere gestito all'interno gli invii le spedizioni la tracciatura le telefonate gli incontri con le persone quindi non è che il marketing è solo le campagne facebook e google qua non ci sono nemmeno le campagne facebook e google in questo grafico in questa linea tela perché sono prima sono nella parte sopra lì cioè io do già per scontato che siano arrivati dei lead all'interno del tuo autoresponder poi me li devi trasformare in dati completi nome e cognome numero di telefono email indirizzo fisico quindi la web agency ti deve aiutare a fare questa roba qua a trasformare un email perché ovviamente loro iniziano fare un email o anche se rubano i numeri di telefono attraverso i lead ads perché la gente si incazza esiste una modalità magari non la conosci su facebook dove si chiamano lead ads dove la iper semplifico il cliente ti dà l'autorizzazione ovviamente vuole scaricare qualcosa che tu gli stai offrendo eccetera eccetera e ti dà l'autorizzazione questa autorizzazione lui non se ne accorge ma gli ciuffa ok non solo l'email non solo i dati dentro facebook ma dentro facebook normalmente c'è anche il suo numero di cellulare glielo ciuffa non è molto consapevole il cliente che tu abbia fatto queste cose quindi se tu provi a chiamare un cliente il numero di telefono preso da lead ads questo normalmente ti smadonna te lo dico per esperienza la media che ti arriva intorno è chi cazzo va dato il numero di telefono perché lui non si ricorda di aver cliccato un lead ads e che perché non lo fa volontariamente non lo scrive a mano lui il numero di telefono quindi la web agency deve aiutarti a fare le cose che ti ho detto deve crearti un funnel ok che ti dia un ti porti ad avere i dati di contatto completi del cliente quindi nome e cognome indirizzo numero di telefono email fatto questo da lì in avanti si parte tendenzialmente se puoi con gli invii fisici quindi da qui in avanti la web agency non c'entra vedi quanto ci vuole c'è tutto questo schema la web agency non c'entra quasi niente ok perché è tutto materiale interno che devi smistare ai collaboratori queste cose ragazzi chi le fa in azienda perché manda una roba il cliente risponde non risponde se risponde chi tira sul telefono chi gli risponde all'email chi gli manda i materiali chi fa le cose cioè questo è il lavoro che tu devi fare non è mi servono clienti vado alla web agency la web agency non fa un cazzo di questa roba qua cioè si ferma la slide sopra che manco c'è perché nemmeno voglio più parlare di quelle scemenze lì ok di come si fa un facebook house parli con moreno ti spiega lui non mi interessa a me quella roba lì a me quello che interessa è questo passaggio specifico questa ragnatela è come costruire un sistema di acquisizione clienti efficacissimo poi da qua in avanti parliamo abbiamo parlato riparleremo di come spremere all'infinito i clienti quindi oggi ti ho ti sto spiegando ti ho spiegato cosa accade dal lavoro che fa la web agency a quando si chiude una vendita c'è un mondo in mezzo che è questa ragnatela che ti ho mostrato adesso questa ragnatela qua ok non te la spiega nessuno questa roba perché è nella tua testa è dalla web agency ai soldi nel conto corrente non funziona così funziona così ok quindi bisogna che prendi ok la mia matrice e te la porti a rimorchio ok te la porti all'interno dell'azienda ve la stampiate e mettiate i materiali che ci sono all'interno riempiate le caselline e tu metta accanto il nome di questa roba ok se poi lavori magari con Infusionsoft Infusionsoft ti gestisce i flussi di lavoro ok o con un buon crm devi avere un crm che ti gestisce devi automatizzare con i tac questi flussi di lavoro in modo che siano automatizzati se non ce l'hai vecchio prenditi un cazzo di crm un po' bellino prendi Infusionsoft una volta per tutte ciò tu lo devi fare a mano cioè non so cosa farci fatelo a mano va bene uguale bestemmerete un po' di più però l'importante è che ci sia ok se lo fai girare su carta e vedi che funziona poi nel tempo ti verrà voglia magari anche di di automatizzarlo e di fare le cose fatte bene questo è molto importante quindi questo è il passaggio ok questa è un'automazione vera e propria fatta però con cioè prima è un'automazione questa è la marketing automation vera perché è fatta con fogli di carta telefono ok questa è la marketing automation vera e propria tutta la parte online ha poco a che fare cioè la parte più importante anche di infusion non è la marketing automation sopra è la sales automation cioè quello che succede quando il cliente comincia a reagire e si interfaccia con l'azienda cioè non si fa nessuna marketing automation se non ci sono delle persone che fanno cose che prendono i dati inviano le cose rispondono al telefono accolgono i clienti vanno a trovare i clienti questa è la marketing automation cioè non esiste qualcosa che frulla il cliente online mentre tu non vedi che te lo restituisce pronto a strisciare la carta di credito o a mandarti un bonifico a firmarti un assegno non esiste quella roba lì e questo è il segreto questo è perché sono tutti delle favela fuori perché non conoscono questa struttura questa è una struttura molto semplice estremamente efficace non hai bisogno di essere un genio del marketing hai bisogno di riempire le caselline che ti do ok con dei nomi e dei ruoli e poi mi fai sapere come va ok perché è impossibile che questo sistema non ti dia dei risultati straordinari molto di più di qualunque favata tu stia facendo in questo momento o di tutte le cose trick e ballacche online che stai facendo che non portano a nessuna parte perché manca proprio questa parte esiste la parte online tra virgolette sopra se la devi fare in alcuni casi nemmeno devi farla ok poi c'è questo questa è la vera automation e poi c'è il cliente che compra a rapporto con umano con un venditore che chiude i contratti o gli fa acquistare le cose eccetera eccetera io vedo che nessuno fa sta roba o ci sono dei venditori porrelli carri da cannone o tutti che si aspettano che l'online faccia non so quale tipo di miracolo per portare un cliente a comprare multistep non voglio vedere lead che vengono messi nell'autoresponder e tenuti lì a macinare email dopo email dopo email non voglio mai più c'è questa roba io non la voglio mi sono stancato mi sono veramente rotto le palle non voglio più vedere gente che brucia cassa brucia soldi e non ha un sistema per rientrare il più velocemente possibile dell'investimento fatto quindi questo è il tuo lavoro caro imprenditore se sei arrivato fin qui è perché ti è piaciuto questo video per questo ti chiedo e se ci fosse un club esclusivo con incontri di aggiornamento ogni mese per persone che vogliono raggiungere il successo proprio come te sto parlando del circolo degli imprenditori di Frank Merenda se vuoi scoprire l'offerta a te dedicata ti basta cliccare sul link in descrizione fermo dove credi di andare te ne stavi andando senza iscriverti al canale vero? vedi di non farmi arrabbiare iscriviti subito e attiva la campanellina non vorrai mica perderti la prossima diretta con tutte le strategie utili per raggiungere il successo giusto? allora fai bravo iscriviti ora grazie a tutti